Giovedì al Pallavangelisti contro i Belgi del Reusler per la seconda giornata del Gironi di Champions. È la fase calda della stagione, la formazione di Zaitsev è reduce del settimo successo consecutivo in campionato a Padova. Andiamo a sentire proprio lo zar sul momento della squadra che è in grado anche di trascinare tanti appassionati. Bene l'intervista non è ancora pronta e ve la proporremo nelle prossime edizioni. Dunque è tutto per questa.